Nella partita contro il Bari, Piero Braia gli ha dato la fascia di capitano per responsabilizzarlo e lui, così come gli altri compagni di squadra, ha offerto una grandissima prestazione. Riccardo Maniero è di sicuro tra i giocatori più attesi in casa bianco-verde in vista dei play-off. L'attaccante napoletano in estate è stato accolto dalla contentezza di molti e lo scetticismo di alcuni, ma sul campo ha dimostrato tutto il suo valore, confermandosi un elemento di altra categoria. Dieci gol realizzati, un assist, venti partite da titolare e undici da subentrato. Questo il bilancio dell'ex Pescara, che escluso l'inutile gol dell'andata contro il Catania, ha sempre siglato reti decisive dalla Casertana alla Juve Stabia. Ogni qualvolta il numero 19 bianco-verde ha gonfiato la rete, i lupi hanno portato a casa i tre punti. Adesso l'auspicio è che possa essere ancora decisivo nella post-season, mirando al suo record personale di gol esiglati in Serie C, 12 con la maglia dell'Arezzo nel campionato 2009-2010. Per inseguire la B, l'Avellino ha bisogno anche dei gol di Ricchi.